C'erano una volta a Quarrata, il paese dei mobili, un padre e un figlio, Graziano e Matteo, entrambi innamorati dell'arte e del design. Un giorno, coltivando le loro passioni, ebbero una grandiosa idea. Usare le loro competenze per creare un nuovo modo di abitare in cui le opere artistiche fossero di casa. Cominciarono così la selezione delle aziende e dei prodotti per offrire qualità, originalità e un pizzico di magia ai loro clienti. Il loro lavoro fu subito un successo e le case arredate con il nuovo stile divennero tante per la gioia delle persone che poterono finalmente abitare l'arte in tutta l'Italia e anche all'estero. Ma a Matteo non bastava perché voleva far vivere a tutti l'esperienza di un vero sogno ad occhi aperti. E così, con un po' di fantasia e un po' di tecnologia, riuscì a mettere a disposizione dei suoi clienti la possibilità di vivere la casa dei sogni, prima ancora che questa fosse realizzata. Questa è la storia di Giovannetti Arredamenti, un posto dove ancora oggi, dopo oltre 25 anni, Graziano e Matteo, con i loro collaboratori, creano una piccola grande magia. Inventare la casa che avete sempre desiderato. Giovannetti Arredamenti, l'arte di abitare.